Cosa fare e cosa non fare nell'approcciare una donna? In questo video voglio spiegarti quali sono le cose da fare e quali cose sarebbe meglio non fare nell'approcciare una donna. Prima di tutto però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento. Abbonamento base, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ma adesso veniamo al tema, cose da fare e cose da non fare per approcciare una donna. Allora, ci sono molti uomini che sbagliano nell'approccio e fanno degli errori grossolani. Allora, in primo luogo quando approcci una donna, indipendentemente da quello che dici, è molto importante il tono di voce con cui dice le cose. Devi evitare una voce stridula, una voce da gatto castrato. Perché questo tipo di voce non piace alle donne. Puoi utilizzare un tono di voce un po' più duro, un po' più morbido. Vanno, possono andare bene entrambi. Ad alcune donne piace più duro, ad altre donne piace più morbido. Ma devi assolutamente evitare di utilizzare un tono di voce stridulo. Perché il tono di voce stridulo non piace a nessuna donna. Anche un'altra cosa da evitare di fare è quella di utilizzare, diciamo, delle battute, come dire, stile vitelloni. Battute, ah, guarda che buona, hai visto che bonazza, sei proprio buona. Cosi di questo genere, evitare di farle. Perché non vanno bene. Altra cosa da evitare di fare è quella di stare a fissare una donna che vedi prima di approcciarla. O fare la figura del maniaco che gira intorno, gira intorno. Magari lei sta passeggiando al supermercato e tu inizi a girare attorno, girare attorno. Per sperare di qualche cosa ci fai una figuraccia, sembri veramente un maniaco. Per cui devi rispettare quella che viene chiamata la regola dei tre secondi. Cioè nel momento in cui entri nel campo sensoriale di una donna, normalmente poi è il campo visivo, cioè nel momento in cui ti ha visto, devi, entro tre secondi, fare un approccio. Cioè dire qualche cosa. Perché se perdi l'attimo fuggente non riuscirai più a ottenere risultati. Quindi è veramente importante non perdere l'attimo fuggente e cercare di trovare anche una battuta. Non è, ripeto, non è importante quello che dici. Potresti anche dire semplicemente ciao, mi chiamo Massimo e tu come ti chiami? Ti ho notata, mi hai subito colpito. Qualcosa del genere. Non è importante cosa dici, ma è importante che quello che tu dici lo dici convinto, lo dici in una modalità, diciamo, che possa essere interessante. Questo è molto importante. devi evitare assolutamente, tassativamente, di, diciamo, essere, come dire, pesante nell'approccio. Devi essere ironico, easy, fatti vedere, simpatico e utilizzare, diciamo, anche un modo di fare veramente leggero e divertente. Per quanto riguarda l'approccio sui social, devi evitare assolutamente di essere insistente. Fai una battuta, vuoi approcciare sui social? Scegli un approccio, diciamo, come dire, in parallelo. Hai 20 donne che ti piacciono nei tuoi contatti social, manda un messaggio che sia specifico, diciamo, per ogni donna, non lo stesso messaggio copy and call mandato a 20, perché devi fare un commento su qualcosa, su qualcosa del loro profilo, su qualcosa che hai visto nel profilo, non mandare a tutte ciao bella come stai per dire, perché diventa poco efficace, diventa molto più efficace se tu fai un commento personalizzato che lei intanto capisca che quel commento lì l'hai mandato a lei, che non lo stai facendo semplicemente un copy and call quindi devi cercare qualcosa di specifico, di caratteristico che noti nel suo profilo e mandare un commento su quello. Questo è il modo migliore per approcciare e poi ovviamente nei social non devi diventare insistente, non è che tu mandi un messaggio e lei non ti risponde e tu gli mandi altri 50 messaggi. Tu mandi un messaggio e poi devi aspettare che lei ti risponda. è importante che il messaggio sia ironico simpatico e soprattutto mirato e specifico ma non deve essere diciamo un qualcosa di poi insistente e questo è fondamentale. Una cosa che deve eliminare tranquillamente è la paura di approccio perché il maschio diciamo che normalmente deve approcciare quindi cerca di eliminare la paura d'approccio e in ogni caso fai approcci diciamo anche da un punto di vista statistico più ti alleni meglio è. Quindi ogni volta che tu hai un'occasione devi provarci con una donna quindi tieni presente che più tentativi farai più ti come dire allenerai e più riuscirai tranquillamente quindi non è che devi andarla a cercare con l'anternino ma l'allenamento è quello che ti permette di sbloccare la paura dell'approccio è solo l'allenamento l'obiettivo deve diventare quello di provarci non quello di avere un risultato o meno questa è la cosa fondamentale e poi allenandoti diciamo in questo modo riuscirai a tenere dei risultati molto molto importanti e anche molto rapidi bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi sulla pagina instagram massimo terramasco seguimi su tiktok ti ricordo che sul canale ci sono ben quattro livelli di abbonamento l'abbonamento live per partecipare alle live al corso di un caffè al mese l'abbonamento base con lezioni mirate l'abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione e seminario del vive l'abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica ciao a tutti